Amici chiarissimi, salve a tutti e ben ritrovati. Sono qui con i componenti della mia pistoletta spagnola ad aria compressa, la Gamo AF10. L'ho smontata per intero perché devo fare un piccolo tuning di potenza sulla valvola che ha anche la transfer port integrata. Spero di conseguire un discreto aumento di potenza e ho fatto anche contemporaneamente un'interessantissima scoperta. Un dato che non viene riportato né nel manuale di istruzioni né sul sito della Gamo e tantomeno ne ho sentito parlare nei vari forum. Quindi nonostante tutti quelli che parlano a vambera dicono il contrario, vi annuncio che questa pistola anziché supportare come del resto sarebbe anche naturale i pallini sferici in piombo è da utilizzarsi con pallini sferici in ferro o pellet in piombo. Questo perché? Perché casualmente manipolando proprio questa valvola mi sono reso conto che all'imboccatura, all'uscita della transfer port, proprio in concomitanza con quello che è la canna, c'è un componente magnetico. Ora, evidentemente un componente magnetico non serve a un piffero quando si parla di proiettili in piombo, ma ha un senso quando si parla di proiettili in ferro. Vi faccio vedere, questa è una punta da trapano. tolgo la scatolina, così insomma la camera mette meglio a fuoco e vedete, solo ad appoggiarla la punta non cade più, proprio perché attratta dalla calamita interna. incredibilmente, ho voluto fare anche la prova con un pallino in ferro di altro calibro, qua siamo su un 6 mm, calibro da soft air, lo appoggio e come vedete non cade. Per farlo cadere glielo dare un colpo più forte, ok, vedete? La cosa è interessantissima, per due motivi, innanzitutto perché così ogni qualvolta vado a utilizzare i pallini sferici per sparare, non incorro più nel odiosissimo problema di vedermi pallini che scivolano giù dalla canna nel momento in cui sto mirando qualcosa che è più in basso rispetto al punto in cui tengo la pistola puntata. Cioè, se l'obiettivo, se il bersaglio sta più in basso di me, io ovviamente devo abbassare la canna della pistola e molte volte mi vedo rotolare questo pallino di piombo che esce dalla canna e ovviamente resto senza la munizione da sparare. Cosa odiosissima e quindi mi stavo limitando a sparare unicamente o perfettamente in linea orizzontale o dal basso verso l'alto, cosa che diciamo è un pochino scocciante. In questo caso, a questo punto, utilizzando un munizionamento pallini sferici in ferro, potrò sparare anche puntando in basso. Vedete? Non cade. Questo è da 6, quindi non sta nemmeno ben agganciato all'interno della valvola. Altra cosa che mi fa godere come un riccio è il fatto di poter rispondere a tutti quei beoti che nei commenti puntualmente mi scrivono Ah, questa pistola non è adatta all'utilizzo di munizioni di ferro perché si rovinano le striature della canna. Allora, cari beoti, cari emeriti beoti, quando si tratta di pallini sferici, l'attrito che si sviluppa all'interno della canna è un attrito volvente. Cos'è l'attrito volvente? È un attrito dovuto a un moto circolare. Vedete questo cilindro? Questo è un attrito volvente. Ok? L'attrito radente, quello dato prevalentemente dai pellet, questi sono i classici Diablo, ve li metto un pochino più a fuoco. Ok? Allora, l'attrito dato dai Diablo è un attrito radente, quindi anziché essere così si sviluppa un attrito di questo tipo. Casomai le striature della canna si potrebbero rovinare più per un attrito radente che per un attrito volvente. Ma questo, per quanto riguarda le armi ad aria compressa, è un'eventualità estremamente remota. Proprio perché qui stiamo parlando di armi che non sviluppano calore. Non sono armi da fuoco dove si sviluppa una temperatura estrema che si può andare a intaccare le proprietà fisiche di quello che sono le striature della canna. Ma è durante il passaggio dell'ogiva potrebbero in qualche modo, ma non lo fanno, rovinare l'interno della canna. Considerate anche che molte ogive di armi da sparo sono ramate, sono ricoperte da un film in rame. Che lo stesso non va a rovinare assolutamente queste striature. Quindi voi emeriti Beoti siete semplicemente gente che parla senza sapere un piffero. Quindi d'ora in poi, zitti. Ok, bene. Con questo io penso di aver detto bene o male tutto. Sono qua che gioco felice come un bimbo con la calamita appena scoperta, vedete. E penso a quando rimonterò questa bella pistoletta, magari dopo il tuning di potenza e quindi insomma avrò la possibilità di sparare anche i pallini sferici dall'alto del mio balcone in direzione di tutti quanti i topastri che qua in campagna circolano imperterriti e vedere di farne fuori un po' così non mi ritrovo a rosicchiare tutto quello che ho fuori in giardino. Vi assicuro che il controllo delle piaghe è qualcosa che va fatto perché sono piaghe e quindi quale migliore occasione di sfruttare la Gamo F10 in tal senso senza colpo ferire o forse sì. Beh, dai ragazzi, con questo è tutto. Io vi saluto, vi rimando al video successivo nel quale potrete finalmente vedere come viene realizzato il tuning e poi ci becchiamo nei commenti. Ciao!